Ho detto karate, si è accesa una lampadina, voglio andare anch'io, ma io ero a Milano e io abitavo a Verderio, però mi ha dato un opuscolo che diceva a Sesto San Giovanni c'è una scuola di karate. Allora la stessa sera sono venuto a casa, ho caricato la mia fidanzata che poi è diventata mia moglie, siamo andati in questa palestra, chiamiamo così, e abbiamo iniziato la stessa sera il karate. Insieme, che bella cosa. Esatto, e continuiamo ancora insieme. Ti ricordi un po' le prime emozioni che hai provato quando proprio hai affrontato la prima lezione? Non sapevo che esisteva il karate, però la parola karate mi ha dato una luce e quando ho iniziato le prime lezioni c'era un entusiasmo tale che le tecniche erano pochissime, però tornavamo a casa e ripetevamo le stesse tecniche tantissime volte.